uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi trailer ufficiale appena rilasciato me lo voglio godere insieme a voi va che roba e tua sorella ma sì cosa ma por un momento un momento ma perché non devo mai fare ho capito non si fa in questo ma por c'è robottone c'è robottone assurdo assurdo wow poi secondo me non si può piccolare non si può sparare nuovi posti che ci sono i robottoni raga in addition to all new gameplay found in season x there's also a brand new battle pass that'll introduce new dimensions to some of your favorite fortnite characters and ways you've never seen before assurdo 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 ma guardalo qua wow versione bianca del signor di ferro ragazzi mamma mia wow questo ragazzi era il trailer ufficiale di fortnite della season 10 grazie per aver visto questo piccolissimo video e fra poco la patch notes bella ciao bella bella buy Grazie a tutti.